Probabilmente avete meritato di più. Voglio sapere il tuo punto di vista del draw, quale tipo di match era? Siete ok con questo draw? Siete a posto con questo pareggio? Avete meritato di più? Qual è il suo punto di vista? Hai detto a te che io amo i draw? Questa è la terza volta in un'altra volta. Questa è la migliore della squadra. Un po' nervoso. Abbiamo avuto buoni golvi in la prima parte. Il nostro problema era come creare le chances. Penso che è un'imilante. Questa è un'imilante. Questa è un'imilante. In questo caso è un'imilante. Ho la volta in break. E poi, percibendo con la shit reason, Questa è la prendra in un'imilante. 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 E all'imilante. Un'imilante. Voi portare il mio compagno. Percibere il mio compagno. Ok. E' un'imilante. I hate when my players mention hate it, but I don't want it at the next time in the red departs I say Okay, you have a clip, then check this, then actually it's my moment, so We have recovered fiducia, we have done very well, then we have used words that I don't want to comment on the goal of the defense, so we are not satisfied with the goal of the defense, so we have improved the structure in the second time, but if we had done the goal of the 2-0, or the 2-1, we would have won the game, so I'm going to go to you in the studio Manuel Giaccherini Sì, buon pomeriggio mister, complimenti perché non è facile entrare in Italia, si vede già la sua impronta, una domanda secca, destro è il trascendente a secca Zarebio, il ta forno è facile, so always how long this is for to root, this is a principle, a cell palm is always undercurrent to And this piece gives us really really good quality, and good chances above this goal, and you see Ekko play a really good game today and make the assist, good going on the first post ma è sicuramente un'opzione ma in questo momento voglio vedere che si funziona un po' più per il team il prossimo match con Venezia qualche tipo di last call Sì è una domanda davvero buona ma come ho detto al cominciato dall'interview io odio i draw quindi stiamo giocando per i tre punti Sì Grazie 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 Grazie